Perché tutti quelli che a luglio si accorgevano che erano fatte una cozzaglie e bituni, che erano portati bituni su bituni, a non essere i locatori d'Italia. Non mai dice chi è una chiave che è il locatore. Quando venne presa gente come Ricciardi, Zanandrea, un vero giornalista avrebbe detto ma a chi cazzo mi stai portando? Preparare una squadra con Farfallon in bosta, Garetto, Moretti e Scendiretto, questo non lo fa, manca la buonanime sisina e affreddo sempre l'embriaco, è assurdo.